che va in testa e chiude il primo gruppo di salti Selina Toth Sì, lei preferisce iniziare con un doppio e mezzo rovesciato quindi una di quelle rotazioni diciamo non totalmente naturale soprattutto nella parte finale quindi l'atleta deve orientarsi durante i due salti mortali quindi vedere l'acqua qui qui, stendere le gambe e trovare la verticale nella parte finale purtroppo si calpa leggermente, infatti vedete 7 ma anche dei 6 perché penalizzano molto l'entrata